Eva, nella live ma che vuole la zoccolona nera, avvisa tutti che in questo periodo non sta fisicamente molto bene, ed è sotto osservazione dai dottori, per capire la natura del problema e trovare una soluzione. E su questo noi le auguriamo una pronta guarigione. Però dice pure che la dama nera, stia parlando di lei e, da quello che abbiamo capito, sembra che la dama abbia tacciato Eva di raccontare queste cose, per chiedere soldi o comunque aiuto. E quindi, Eva, risponde che lei sta solo raccontando quello che le sta capitando, e che non chiede soldi ai suoi utenti, che non apre collette per pagare le bollette. Lei non ha mai aperto raccolte fondi per pagare le sue visite mediche, perché lei le può pagare con i soldi che guadagna il suo compagno. Eva, per chi non lo sapesse, non lavora, ma fa la casalinga, e non lo diciamo in modo dispregiativo perché anche questo è un lavoro all'interno della famiglia. Ma noi ci ricordiamo bene, che lei ha una conoscente facoltosa, che le fa regali importanti, le paga le spese legali per processi in corso e via dicendo, ne parliamo nel video Eva Live. Coerenza o non coerenza? Questa è la domanda, vi riportiamo in alto a destra e nell'infobox. Inoltre, nella bacheca della sua community, c'è un post di ieri dove scrive, riportiamo fedelmente. Raga c'è di nuovo il concorso per vincere 120 euro di buono Shane, se ne volete approfittare, iscritti e non, ecco il link. Io il mese scorso ho vinto 60 euro. Per favore aiutami a vincere il 120 euro credito, leggendo quindi questo post, secondo voi, non è una forma di richiesta di denaro? Per noi sì. Ma poi, buon per lei che ha persone facoltose, che le fanno regali molto costosi, ma dire agli altri di andare a lavorare invece di criticare. Dire che gli altri, la dama, vive sperando di svegliarsi e che qualcuno vada a lavorare al posto suo, e aspettare poi che le mandino i soldi. Non è quello che apparentemente fa proprio Eva? Ricordiamoci anche che lei stessa ha dichiarato in passato di aver fatto la mistress virtuale. Forse non sarebbe meglio non stare sulle spalle delle persone, rimboccarsi le maniche, in modo che nessuno poi possa rinfacciare nulla, così da non esporsi a certe critiche, per poi arrabbiarsi se qualcuno le fa notare. Alla fine, questo dovrebbe aver fatto la dama, ha sottolineato che Eva si può permettere certe cose, non grazie al lavoro del compagno, o suo, ma grazie ai regali che riceve. Comunque, facciamo un in bocca al lupo, e viva il lupo, affinché lei possa risolvere al più presto i suoi problemi di salute. Grazie a tutti.